allora cari amici buongiorno siamo oggi a vedere anzi a vedere che cosa si può fare con questo wise 3040 della dell un computer veramente molto piccolo con diversi ingressi usb tra cui anche un usb 3 due ingressi anzi due uscite video con la display port una presa di rete è un alimentatore veramente molto piccolo è alimentato con tensioni molto basse e all'interno un disco da 8 gigabyte noi trasformeremo questo su cui c'è installato antics che abbiamo che ho ricevuto in prestito una completa stazione radio per cui vedete ci sono le casse c'è anche un'antenna una vecchia vecchia antenna televisiva che ci permetterà di ricevere decodificare anche il dub però prima lo accendiamo e vediamo un pochettino che cosa c'è installato per farlo funzionare c'è bisogno di un codino è un codino che permette di convertire il display port in una normalissima presa vga ovviamente poi c'è il prese usb mouse tastiera e il connettore vga del monitor quindi cominciamo a montarlo e a lanciarlo vediamo che cosa c'è che cosa c'è caricato su questo sistema allora abbiamo collegato tutto quello che serve accendiamo il sistema ecco qua il video si è acceso è comparso il logo e c'è caricato un linux antics piccoletto in realtà il disco è un disco allo stato solido sostanzialmente quindi è molto veloce per caricarlo eccolo qua è quasi pronto qualche secondo eccoci qua con antics adesso rimuoviamo antics installiamo debian 11 ultima release solo il software che serve perché comunque abbiamo un sistema nuovo quindi negli 8 gb di disco disponibile potrebbero non entrarci quindi riduciamo tutto all'osso installiamo esclusivamente quello che serve un desktop streaming sito per poter lanciare i quattro programmi che ci servono dopo di che vediamo un pochettino che cosa succede tutte le informazioni sono sul link in basso dove c'è il link alla mia pagina sul sito con tutte le eventuali difficoltà che si possono incontrare nell'installare un sistema moderno su questo computer molto molto piccolo ripeto 4 gb di ram 8 gb di disco con diversi ingressi la display port è un'alimentazione veramente molto strimizzita il tutto 10 x 10 cm anche meno per 3 cm di altezza spegniamo tutto e dopo l'installazione vediamo un pochettino che cosa si può fare allora non sembra è passato un po' di tempo l'installazione è finita è durata un po' di tempo perché ci sono state un po' di difficoltà nel senso che ci sono alcuni driver proprietari da installare sia per l'audio che per il video c'è anche da sistemare il sistema di partenza perché c'è un po' di problemi legati al boot in pratica il grub non viene visto direttamente dal virus della macchina ci deve essere un piccolo bug tutte le informazioni sono sempre sul come ho detto sulla pagina del mio sito finalmente comunque l'installazione è finita il del wise 3040 parte senza difficoltà con il nuovo debian 11 vediamo un pochettino che cosa succede accendiamolo ecco qua il display che è stato visto il nuovo club con debian partiamo ovviamente avendo ridotto tutto all'osso abbiamo uno start totalmente testuale ma basta inserire la password utente password e dare start x e avremo il nostro desktop c'è poco da fare anzi se si sbaglia proprio l'utente cose che capitano eccoci qua il sistema parte immediatamente questo è molto più veloce perché un desktop veramente molto ridotto all'osso essenziale devo dire rispetto ad antics del resto a noi serviva esclusivamente lanciare quello che ci serve per far funzionare in pratica il mixer che può essere utile per controllare se ci sono degli ingressi in riproduzione eccetera e ovviamente adesso dobbiamo andare ad attaccare quello che è importante cioè il ricevitore che è costituito dalla pennina sdr siccome abbiamo bisogno di un'antenna colleghiamo l'antenna al ricevitore e accediamo le casse eccoci qua quindi inseriamo il nostro ricevitore sdr all'interno di una presa usb libera e proviamo a vedere se gqrx che è stato installato funziona io ho modificato anche i menu di avvio quindi c'è un piccolissimo menu di avvio che mi permette di lanciare quello che mi serve in questo caso lanciamo gqrx ecco qua se tutto va bene vediamo all'interno del mixer che già gqrx ha abilitato l'output mettiamo queste finestre in modo che si possono vedere accendiamo gqrx sulla frequenza fm facciamo fm ma ovviamente qualsiasi frequenza dai 27 25 mhz in su può essere ricevuta con il nostro sdr ovviamente dobbiamo attaccare le casse ecco qua riceve perfettamente ovviamente al touch possiamo cambiare radio funziona davvero bene allora sostanzialmente poi per essere una vera radio ci vorrebbe una buona manopola della sintonia qualche tempo fa ho realizzato un progetto questo qua che sfrutta un altro mouse sostanzialmente per poter avere un manopolone della sintonia magari anche demoltiplicato quindi lo assogniamo eccoci qua alla fine abbiamo la sintonia della radio ve le ricordate le vecchie radio? ce l'abbiamo però in digitale andiamo spostiamoci andiamo sull'altro segnale e vediamo questo segnale grosso 100 e 100 funziona molto molto bene vediamo se funziona adesso il dub eccoci di nuovo sul desktop abbiamo provato GQRX che funziona abbastanza bene anche col manopolone che mi permette di effettuare sintonia perché GQRX è sostanzialmente un ricevitore a tutti gli effetti che avevo sintonizzato ma giusto per avere un'emissione certa pulita con questo tipo di antenna che è una vecchia antenna tv beh a questo punto non rimane che usare anche provare il dub quindi utilizzerò un linux minimale per decodificare per ricevere il segnale tramite la chiavetta e decodificarlo dal digitale del dub ad un audio che sia diciamo ascoltabile accendiamo l'antenna la trasmissione del dub dovrebbe essere intorno alle stesse frequenze del VHF del vecchio VHF quindi questa antenna che è una vecchia antenna per tv dovrebbe andare bene e lanciamo nelle applicazioni radio che io avevo messo sul menu il dub ho installato well.io che è questo qua dove ho già fatto la scansione delle stazioni ne ho memorizzata qualcuna giusto per ascoltare qualcosa vediamo un pochettino che cosa succede andando a scegliere per esempio radio montecarlo il segnale è buono ci abbiamo lui sta soltanto adesso ricevendo lo stream e passando poi alla decodifica ci mette qualche secondo se non ci sono particolari intoppi certo la situazione di ricezione non è delle migliori vediamo un po' che cosa succede altrimenti cambiamo stazione questo ha un segnale un pochettino più eccolo qua abbassiamo un po' il volume perché è veramente molto sparato c'è qualche difficoltà in ricezione aumentiamo l'amplificazione vediamo un po' eccoci qua tutto sommato funziona andiamo su un'altra radio ecco qua dopo qualche secondo compare anche il loghetto qui della radio quella io tutto sommato è molto essenziale ma sostanzialmente funziona abbastanza bene andiamo con una stazione lontana BBC vediamo un po' c'è anche BBC ah questo è il segnale un po' più basso audio bisogna amplificarlo sostanzialmente si sente molto molto bene ovviamente posso scegliere anche tra le altre stazioni io ne avevo memorizzata giusto qualcuna ma ce ne sono tantissime ce ne sono tante almeno su questo canale che sto ricevendo ritorniamo alle favorite cambiamo prendiamo un'altra vediamo che cosa succede ecco qua dovrebbe nel giro di qualche secondo sintonizzarsi ma sostanzialmente è un computer che sta assolvendo il compito di un ricevitore digitale una bella radio che si può diciamo realizzare su qualsiasi vecchio computer in questo caso su un computer veramente molto molto piccolo spegniamo il DAB e per questo piccolo esperimento è davvero proprio tutto tutte le informazioni sono sulla pagina del mio sito dove trovate come installarlo come installare Debian 11 su queste piccole macchine con la spiegazione e la soluzione di tutti i problemi che ho incontrato durante l'installazione ciao e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.